vi parlerò eh diciamo del processo ma grandi linee del processo di corrosione quale sono le classi di corrosività tipologie di strumenti per combatterla e tutta una carrellata dei nostri prodotti eh che abbiamo in gamma eh che cos'è il processo di corrosione? Il processo di corrosione come tutti sappiamo è la formazione di ruggine in cui il metallo eh il ferro in questo caso viene eh ossidato eh in un processo di ossido di riduzione scaturito dalla presenza di ossigeno e acqua e questo ferro poi viene dilavato e quindi consumato questi ossidi di ferro vengono asportati nel tempo e quindi il supporto metallico nel tempo si consuma in base alla tipologia eh di ambiente e quindi di tipo di aggressione al metallo eh sono state classificate eh una serie di classi di corrosività in cui appunto eh il metallo viene consumato maggiormente o in maniera inferiore. Come possiamo vedere nella classe uno che è una classe di corrosività molto bassa all'esterno non esiste perché già all'esterno eh il tenore di corrosione è già più elevato rispetto a una classe uno. Come possiamo vedere le classi invece C5 eh industriali e marine sono classi in ambienti estremamente corrosivi in cui l'aggressione al supporto metallico e quindi anche alla verniciatura saranno molto elevate. Come possiamo combatterlo noi questa questa aggressione da parte dell'ossigeno e dell'acqua al nostro supporto metallico? Abbiamo due due meccanismi. Un meccanismo passivo in cui tutte le tipologie di vernici più o meno fanno e esplicano. Cioè isolare il supporto dall'ambiente esterno in cui si trovano. Ovviamente ci saranno dei film di vernici che sono molto più performanti rispetto ad altri che invece magari hanno delle performanze inferiori. La seconda tipologia di eh di lotta chiamiamola così è una lotta attiva in cui all'interno del film di vernici e del prodotto verniciante mh in fase di formulazione vengono inseriti o i fosfati di zinco o addirittura lo zinco eh molecolare eh che fungono da eh elementi sacrificali e quindi si si ossidano prima loro eh del ferro sottostante. Quindi eh allungano la vita sia del prodotto verniciante che che del manufatto in questione. Adesso partiamo con la carrellata dei nostri prodotti e iniziamo con la prima famiglia degli archidici che normalmente chiamate a rapida essiccazione e in cui proponiamo appunto due tipologie di primer il metal prim che è il primer chiamiamolo basic in cui appunto c'è solo una protezione passiva eh alla corrosione e il secondo tipologia di primer lo zinco prima abbiamo all'interno anche eh una certa percentuale di fosfati di zinco che ne migliorano le performance anticorrosive. Inoltre proporiamo le due finiture sia lucida che opaca chiamate Fastolux eh che servono appunto per conferire eh bellezza al manufatto che andremo a verniciare. Quali sono questi manufatti che andremo a verniciare? Normalmente sono prodotti eh che non hanno ehm necessità nel tempo di avere protezione alla corrosione tipo macchinari agricoli un aratro se ehm al momento in cui viene utilizzato o qualsiasi tipo di verniciatura viene asportata deve essere solo bello in fase di vendita e quindi avere un aspetto invitante eh al compratore oppure in tutta quella carpenteria metallica in cui l'ambiente è scarsamente corrosivo quindi o all'interno o in ambienti eh all'esterno ma protetti dalle intemperie. Quali sono i punti di forza di questi prodotti? Sono appunto facili di facile applicazione perché sono prodotti monocomponenti e siccano rapidamente e hanno una discreta resistenza ai raggi eh agli UV per l'esterno. D'altro canto però hanno un limitato potere anticorrosivo e un basso riempimento e quindi si 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 va a ehm amplificare le asperità del supporto qualora vi siano. La seconda famiglia è la famiglia degli epossidici che diciamo è la famiglia principe nella lotta della alla corrosione eh sono ehm prodotti bicomponenti e eh in gamma proponiamo come il primer l'epox prim che sono tutti primer con fosfati di zinco tutti catalizzati eh che hanno la funzione di eh diciamo appunto di primer e quindi di veicolo d'aggrappaggio e di ehm prima protezione al metallo. Abbiamo in gamma di un intermedio vinile epoche se posso vinilico che serve a fare grandi spessori perché se ne può applicare fino a trecento micron freschi in verticale e quindi ehm creano un elevato spessore eh di film secco eh con funzione protettiva e la finitura epossidica chiamata vera epox che ha un ulteriore mh resistenza con funzione di barriera contro l'ambiente in cui si trovano questi macchinari che normalmente sono ambienti ehm che hanno un alto potere corrosivo in ambienti industriali in cui magari ci può eh possono avere eh sversamenti di oli e sostanze varie eh il difetto degli epossidici difetto la caratteristica che però ne ne crea una difficoltà è che gli epossidici non hanno eh resistenza agli ambienti esterni eh e questo poi vedremo come sopperire a questo ehm a questa caratteristica degli epossidici pertanto gli epossidici vengono utilizzati in tutti quei eh quei macchinari industriali che hanno bisogno di di elevata eh resistenza alla corrosione per qualsiasi motivo sia che sia in ambienti salini o che siano in ambienti corrosivi acidi o basici e quindi possiamo farci macchinari tipo tagliante laser delle presse idrauliche delle pompe eh lavatrice industriali eccetera i punti di forza sono appunto l'altro potere l'altro residuo secco e quindi riescono a a coprire le asperità della superficie metallica hanno un elevato potere anche anticorrosivo e uno degli aggrappaggi più elevati fra tutte le nature chimiche dei dei prodotti vernicianti e un'eccezionale durezza la loro limitazione appunto è la resistenza ai raggi ultravioletti e una scarsa elasticità eh questo però appunto ehm essendo metallo ehm non abbiamo dei movimenti come nel legno e quindi l'epossidico è una famiglia che eh può essere utilizzata nella verniciatura del metallo una famiglia particolare di epossidici sono gli zincanti organici che noi in gamma abbiamo sia il monocomponente che il bicomponente eh questi zincanti organici sono prodotti che hanno un elevato tenore di di zinco come potete vedere il sessantadue per cento per il monocomponente il settanta per cento per il bicomponente e ehm diciamo che hanno la funzione eh di ehm i rifacimenti di grosse strutture ormai degradate dal tempo e lo zincante organico viene applicato in quei punti in cui l'ossidazione era eccessiva e quindi viene asportata totalmente riportando l'acciaio a acciaio nudo e quindi in quei punti di acciaio nudo si applica un sottile strato di zincante da simulare eh la zincatura della della lamiera originaria eh dopodiché si procede con la verniciatura del ciclo stabilito in fase di contrattazione. Il loro punto di forza appunto è questo elevato potere eh tenore di zinco che gli conferisce questo elevato potere anticorrosivo e sono sempre accompagnati da cicli di verniciatura più o meno complessi con più o meno eh prodotti ma non sono mai mano unica. Come dicevo prima gli epossidici non hanno un un una resistenza agli ultravioletti quindi non sono prodotti che vanno per esterno quindi in un ciclo anticorrosivo in ambiente salino all'esterno bisogna che la finitura sia di natura differente e mh qui normalmente i poliuretanici o gli acrilici. Adesso parliamo partiamo dai poliuretanici e mh in gamma abbiamo il Glamber che è la finitura lucida e il Materber è la finitura opaca. Eh la destinazione ad uso di questi prodotti eh in un ciclo come finitura in un ciclo anticorrosivo sono appunto finiture per macchine movimento terra che hanno per la loro durezza macchinari per le per l'edilizia in genere silos serbatoia eccetera hanno un'elevata brillantezza e una buona resistenza agli UV eh una buona ritenzione dei gloss originali il prodotto opaco nel tempo resta opaco non si lucida e viceversa eh delle discrete durezze superficiali e un aspetto pieno caratteristica di tutti i poliuretanici e l'essiccazione medio lenta. L'altra famiglia appunto che insieme a poliuretanici va a a viene utilizzata come finiture di cicli anticorrosivi eh con mani precedenti dei possidici sono gli acrilici e presentiamo l'acribondo lucido e l'acribondo opaco eh finiture eh appunto una lucida e una opaca e che come i poliuretanici possono essere utilizzati per la finitura di cicli per macchine movimento terra macchinari per l'esilizia silos eccetera eh hanno una buona rapidità di essiccazione hanno un'eccellenza resistenza agli UV come tutti gli acrilici non hanno nessun tipo di di cambiamento né di colore né di eh brillantezza eh hanno una buona ritenzione ottima ritenzione dei gloss di partenza una elevata durezza superficiale e quindi eh maggior eh resistenza eh eh alle sollecitazioni meccaniche di contro hanno un basso residuo secco che questo però eh non infiscia sul la funzione che devono eh espletare come ultima mano di un ciclo anticorrosivo una famiglia che eh nella verniciatura del metallo ehm diciamo molto conosciuta e rinomata è la famiglia dei ferromicacei eh famiglia dei ferromicacei noi presentiamo eh due tipologie monocomponente chiamato metalox e il bicomponente chiamato acrimetalox di natura acrilica e sono normalmente utilizzati appunto per la verniciatura di eh inferiate eh cancelli eh tutto quello che sta all'esterno ehm è diciamo preferibile eh utilizzare il bicomponente in tutte quelle situazioni in cui eh si possono c'è più utilizzo del della struttura metallica quindi cancelli, porte, infissi e consigliare di usare il bicomponente perché è più resistente ma quando si va a verniciare delle eh inferiate che eh normalmente fanno da confine di una proprietà eh è sufficiente e è funzionale il prodotto monocomponente. Sono prodotti che hanno un'ottima resistenza all'UV e buona rapidità di siccazione. L'unico diciamo difetto eh che però è una caratteristica è che eh hanno una elevata ritenzione dello sporco proprio per l'effetto della superficie che ehm non è liscia. eh quindi eh non sono auspicabili per la verniciatura di eh manufatti metallici che vanno all'interno in case private perché in fase di pulizia eh è un disastro. Quindi la verilegno propone altri due prodotti monocomponente uno monocomponente il grafi ver e uno bicomponente il grafi bond in cui appunto per per interno eh hanno una superficie liscia e quindi sono idonei per la verniciatura di supporti metallici. un'importante mhm precisazione eh sono i metodi applicativi perché ehm c'è una sostanziale differenza nella verniciatura di manufatti metallici rispetto a manufatti in legno. Le gli strumenti sono gli stessi le pistole a tazza magari cambiano gli ugelli perché eh prodotti possibici e possidici sono un pochino eh più grossolani e quindi ugelli di piccole dimensioni si fa fatica a spruzzare ma si fa benissimo ehm applicazioni con pistola a tazza, pistola airless, airmix ehm l'anormale strumentazione che eh tutte le verniciature hanno. L'unica differenza è che le verniciature per i prodotti protezione metallo eh non vengono misurati grammi metro quadro ma in micron perché eh le specifiche anticorrosive sono eh strettamente correlate agli spessori eh applicati e quindi diciamo l'operatore in fase di applicazione utilizzerà uno spessimetro a umido che lo vedete nella foto di sinistra eh che serve per capire quanti micron umidi eh sono stati applicati in quel pezzo quindi l'operatore poi si regola se sono insufficienti continua l'applicazione. Ci sono anche altri spessimetri eh a secco che normalmente che misurano la vernice ormai secca del di di film applicato e normalmente vengono utilizzati dai ispettori di verifica in cui appunto vengono a verificare eh che le specifiche di verniciatura siano eh conformi a ai contratti stipulati ai contratti stipulati ai contratti stipulati Grazie a tutti